Finanziare 110 è l'ode. Questo è lo slogan che riassume le finalità dell'ordine del giorno che vede come primo firmatario Roberto De Riu, consigliere regionale del PD, sull'università. Un provvedimento con il quale il centro-sinistra raddoppia le borse di studio per gli studenti e avvara un pacchetto di misure su didattiche e diritto allo studio. Una norma che impegna il presidente della regione e l'aggiunta a rivedere i parametri di reddito e di patrimonio ai fini dell'assegnazione delle borse di studio, fino a raddoppiare il numero degli avventi diritto potenziali. Inoltre, scrive De Riu, aumenta in proporzione lo stanziamento dei fondi regionali per le borse di studio. Questa decisione completterà in sede di Assestamento 2016 la manovra complessiva di quest'anno dall'aggiunta a Pigliaro a sostegno delle università sarde e degli studenti. Secondo il consigliere De Riu, in questo modo si raggiungono due obiettivi. L'aumento del numero degli studenti attraverso un'effettiva garanzia del diritto allo studio anche per i meno abbienti, l'inizio di un processo virtuoso che consente alle università sarde di recuperare competitività nei confronti del sistema universitario nazionale. De Riu ricorda nella nota che nell'anno accademico 2014-2015, con i fondi previsti dalla finanziaria 2014, solo il 60% degli studenti ha beneficiato dalla borsa. A complicare le cose è intervenuto il nuovo modello di calcolo degli indicatori reddittuali patrimoniali, ISEE e ISPE, che hanno fatto registrare quasi 2.500 esclusi, contro la media di 1.800 degli anni precedenti. Per l'anno accademico 2016-2017 le soglie dei criteri economici per poter accedere alla fruizione delle borse di studio, scrive De Riu, sono state aumentate, ma il raddoppio del numero delle borse di studio assegnate, conclude il consigliere del PD, permetterà di attirare nelle sedi sarde nuovi studenti, che altrimenti deciderebbero di iscriversi negli atenei della penisola, nei quali è più alta la probabilità di ottenere una borsa di studio.